Siamo a Fontana Bona di Pagnacco in Via Castello. Quando ha visto l'ultima volta Paolo? Una settimana fa, 4-5 giorni fa. Ed era normale? Normale come ogni giorno che ci vediamo. Ecco, è stato... Lei quando ha saputo della morte? Verso le 4, verso le 16, quando è arrivata l'automedica o la sua compagna. Che persona era? Viveva solo? Viveva solo dopo la morte del padre. Dopo la morte del padre, quindi era molto affezionato al padre, evidentemente. Sì, certo. Ne risentiva per questa morte? Penso di sì, perché trovandosi da solo... Ho capito. Che idea si è fatta di questa vicenda? Perché è una vicenda, appare, non chiarissima ancora agli inquirenti. Per me è caduto, ha battuto la testa, qualcosa, è caduto e è rimasto lì. Sì, non c'è nulla che... Per me no.